Incidente mortale attorno alle 5 di stamani tra un mezzo pesante e un'auto sull'Avezzano Sora, l'uomo alla guida dell'automobile, l'imprenditore 5 antenne Roberto Facchini ha perso la vita nel violento impatto frontale contro il camion. L'incidente è avvenuto al chilometro 18 nel tratto che collega Civita D'Antino a Civitella Roveto. I due veicoli si sono scontrati per causa in corso di accertamento davanti agli occhi degli automobilisti in transito in quel momento. Le fiamme, lo stato in cui era ridotta l'auto, una nissa bianca, hanno subito lasciato intendere la gravità del bilancio. Diverse le chiamate giunte in pochi minuti al 112 sul posto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Dato lo sprigionarsi delle fiamme è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di competenza territoriale che hanno lavorato per estinguere l'incendio e estrarre le persone coinvolte dai veicoli. Inutile ogni tentativo di rianimare il conducente dell'auto, titolare di due imprese di carburanti ad Avezzano e Capistrello, illeso il camionista di Frosinone che trasportava Tegole. Nel 2009 Facchini perse un fratello, appena 43enne, su questo stesso tratto di superstrada. Grazie.